9 ottobre del 1974, sono passati 38 anni, 38 anni che sembrano una storia, che fanno una storia. Ci troviamo dinanzi a un personaggio particolare, la cui storia è stata poi raccontata dopo che la sua vita ebbe corso. Una storia che è stata costruita su una fama postuma, come spesso capita, con personaggi quali Oscar Schindler, di cui vedremo alcuni aspetti significativi della sua vita e del perché, ed è perché è arrivato a una fama, quale è quella che gli è stata poi attribuita dopo la sua morte. Beh, Schindler è un nome conosciuto, quantomeno conosciuto dalle ultime due generazioni, perché è stato il protagonista involontario, era già venuto a mancare, di un film molto importante, Schlindler's List, la lista di Schlindler, fatto da Steven Spielberg, un film di forte impatto. Schlindler è Rosebud, e anche se Rosebud è stato un sled, Schindler è ancora più misterioso che Rosebud. Non ho mai avuto un survivor di dire, categoricamente, che ha planato di salvare i giudici dal primo giorno. Ho avuto molti survivor di dire, che ha planato di fare molto di fare molto, off of all of us, off the Nazi party, from the first day, and then something happened that changed him, but we can't tell you what day it happened on. And in that sense, he's an enigma. As a Sudatenlander, he was still a member of the Nazi party, less of a Nazi in his heart, and much more of, well, I can't make money from the Nazis unless I wear the little swastika on my lapel, as a lapel pin. So he did a lot of things to ingratiate himself, and to profit from World War II, and from what was happening. At the same time, he had a moral conscience, and he knew about the Holocaust, he knew what was happening to not just his workers, but other workers for other factory managers. Perché è diventato personaggio? Perché è diventato figura di rilievo in un film di Steven Spielberg, un autore che sceglie non a caso gli oggetti dei suoi lavori. Ma senz'altro la sua fama è legata a un comportamento, a una serie di condotte che assunse durante la Seconda Guerra Mondiale. È ricordato soprattutto per aver salvato 1.100 ebrei durante la Shoah, negli anni, a cavallo fra il 1939 e il 1945, in cui si consumava lo sterminio sistematico per mano nazista degli ebrei. Si è parlato, non a caso, e poi vedremo meglio perché di ciò, di Schindler Juden, di ebrei di Schindler. Il film ci racconta la storia di questo personaggio, soprattutto la storia delle vicende che sono legate a questa lista che fu redatta allo stesso Schindler, con il contributo di alcuni suoi collaboratori, dentro la quale erano contenuti i nomi di quegli ebrei che altrimenti sarebbero stati assassinati dai nazisti. Il film, peraltro, va ancora detto, deriva dal libro dell'australiano Thomas Kinnerly, il quale, anche qui, un po' è il caso, sia per quanto riguarda la pellicola, sia per quanto riguarda il volume, il quale, per caso, incontrò un sopravvissuto a questa vicenda, Poldek, così veniva chiamato, il nome, il pseudonimo di Leopold Feppenberg, che nel suo negozio raccontò di come un signore, che si chiamava per l'appunto Schindler tedesco, o per meglio dire, Volkdeutsch, ovvero sia aderente alla razza ariana, avesse per l'appunto, negli anni della guerra, salvato lui e i suoi familiari e un gran numero di ebrei nel corso dell'Olocausto. Kinnerly da ciò scrisse un libro, per l'appunto, con la lista di Schindler, dal quale poi successivamente derivò il film. Il film è stato un libro, per l'appunto, è stato un libro, per l'appunto, e la lista di Schindler, dal quale poi successivamente derivò il film. Segui tutti i suoi familiari, per l'appunto, è stato un libro, per l'appunto, Diciamo adesso qualcosa di più sulla biografia di questa persona personaggio Che è una figura particolare, atipica per certi aspetti nella storia del Novecento E la attraversa completamente la storia di quel secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle Intanto è un cattolico nato nel 1908 nella regione dei Sudeti La regione dei Sudeti è un'area di comunicazione tra quelle che poi sarebbero diventate la Cecoslovacchia e la Germania O meglio sia, era un'area che poi venne incorporata dalla Cecoslovacchia alla fine della Prima Guerra Mondiale Ma che inizialmente era parte dell'Impero Ostro-Ungarico Dove vi era un gran numero di residenti di lingua e di origine tedesca Schlinder è come dire una figura in un primo momento consegnata a una vita sostanzialmente insignificante Per molti aspetti direi quasi mediocre, il venditore commerciale non ha assolutamente nessun successo Tenta subito dopo aver ultimato gli studi la via del business ma fallisce ripetutamente I fallimenti contrassegneranno tutta la sua storia, va detto prima degli eventi che sono al centro della sua vicenda Durante e anche soprattutto poi dopo Arriva la grande depressione economica del 1929 Quella che colpisce non solo gli Stati Uniti ma anche l'Europa in maniera violenta Schlinder cambia più volte il suo lavoro e così via Finché nel 1935 entra nelle file del partito separatista tedesco dei Sudeti La minoranza tedesca o per meglio dire il gruppo etnico tedesco soffriva la prevalenza dei ciechi Dopodiché la cosa si sarebbe chiusa lì se non fosse per il fatto che con l'ascesa nel 1933 di Hitler al potere in Germania Le cose iniziano a cambiare, il quadro e gli assetti geopolitici dell'area iniziano a mutare Le istanze separatiste, le rivendicazioni di annessione al Grande Reich che andava costituendosi in Germania Assumono corposità, assumono volume anche in quell'area lì Schlinder entra all'interno delle file di quel partito che rappresenta per l'appunto questo tipo di richieste Si ha detto molto chiaramente che non solo facevano pugni con quelli che erano gli ordinamenti statali, amministrativi, politici dell'epoca Non solo vedevano gli interessi della cecoslovacca ma anche poi costituivano una minaccia rispetto agli equilibri Così come erano stati disegnati con i trattati di pace del primo dopoguerra Si dice anche che Schlinder in quei anni sia stato in quanto cittadino si va di bene cecoslovacco Attivo per il servizio segreto militare tedesco, l'Abwehr Questa cosa può essere in qualche misura significativa poiché ci delinea un personaggio irrisolto A tratti forse anche ambiguo Comunque sia un personaggio che ha la ricerca di arte e di parte, di un ruolo in qualche misura Nel luglio del 38 viene arrestato, poi viene dall'autorità cecoslovacca e poi viene rilasciato Perché? Perché in virtù degli accordi della conferenza di Monaco Nell'ottobre di quello stesso anno il territorio dei Sudetti viene incorporato nel Reich nazista Nel 1939 Schindler entra peraltro nel partito nazionalsocialista Ci entra plausibilmente non tanto per scelta politica quanto per calcolo di interessi Perché in qualche misura ritiene che la nuova situazione che si va determinando Sia qualcosa che gli possa offrire delle opportunità E per avere però queste opportunità da sfruttare è bene stare con la parte vincitrice E i vincitori in questo caso sono i nazisti Di via non molto, come ben risaputo, le cose poi precipiteranno per l'Europa centrale e quella orientale Cioè l'avvio della seconda guerra mondiale nel 1939, nel settembre del 39 Comporta l'invasione tedesca della Polonia, la sconfitta della Polonia medesima E la conseguente spartizione dei suoi territori con l'Unione Sovietica da parte della Germania Fra i più accaniti sostenitori dei provvedimenti sulla razza, il ministro dell'interno Herman Goering Il mi ha dato vita, il mi ha salvato le mie sorelle E io non pude non saperevi più E qualcuno che era relato a noi in Polonia E si è morto in la presenza dei nazis E noi siamo i proprii che avevano E la reason di noi avevano è che avevano un pochino di lista E tu sai, gli ho pregiato tutto Ghi ha fatto tutto con il giovane, con i gifti Lo che ha avuto, è che ha avuto L'accomplice è, per noi, era un'antel Schlinder non è come qualcuno l'ha definito un industriale altrimenti le sue fortune economiche sarebbero state di ben diversa natura e con ben diversi esiti nel caso suo è meglio dire e parlare di sfortune e purtuttavia è un industrioso e uno cioè che in qualche misura cerca di inserirsi con una qualche abilità peraltro nei contesti e nelle situazioni che si ingenerano di volta in volta che le circostanze offrono agli individui più abili agli individui come dire capaci anche di manipolare un po' le situazioni per tranne dei benefici va quindi nella Polonia occupata e smembrata oramai divisa al suo interno laddove una parte consistente d'essa era stata ribattezzata dai nazisti governatorato generale e lì in quella che è la capitale del governato generale Cracovia acquisisce una fabbrica in bancarotta Schindler ha una lunga abitudine alle bancarotte è come dire un personaggio che da un lato li subisce dall'altro lato sa anche sfruttare le occasioni quando sono gli altri a doverne subire gli effetti e ribattezza questa fabbrica che compra per pochissimi denari DEF che è un acronimo che indica fabbrica di stoviglie smaltate tedesche e a quel punto inizia un'attività industriale avvalendosi del concorso, del contributo obbligato di un migliaio di lavoratori ebrei che vengono ceduti dall'autorità nazista alla fabbrica medesima perché la fabbrica riceve anche poi lo status di struttura indispensabile alla produzione bellica che cosa stai facendo? guardini comandante domani mi arrivano degli altri operai da dove hai detto che provengono? dalla Jugoslavia eh comandante devo trovargli posto fammi un cardine sì comandante continuami vai bene davvero molto bravo però sono un po' confuso e forse puoi aiutarmi quello che io non capisco è che stai lavorando dalle credo diciamo circa sei di questa mattina eppure guarda quanti pochi cardini ci sono qui dentro tra il 40 e il 44 anni cruciali anni di feroce occupazione tedesca della Polonia si consuma il destino la storia degli ebrei polacchi è una storia tragica e terribile basti solo ricordare l'aspetto numerico prima che i tedeschi entrassero in Polonia al partire dal primo settembre 1939 vivevano in quel paese circa 3 milioni e 300 mila polacchi di origine e religione ebraica alla conclusione dell'occupazione alla fine del 44 inizio del 45 ne saranno sopravvissuti non più di 200 mila circa gli altri morirono nel frattempo in terribili condizioni e la Shoah di cui si è parlato ripetutamente di cui si continua a parlare e Schindler in qualche modo inconsapevolmente cala in quelle tenebre cala in quelle tenebre perché lui va lì per avvantaggiarsi economicamente e il film di Spielberg ben descrive questa condotta questo comportamento ma entra in contatto con l'incipiente tragedia ebraica che si sta sviluppando in Polonia e che sta portando a degli esiti terribili diciamo subito per essere molto chiari che Schindler non conoscerà mai i campi di sterminio e i campi di concentramento se non poi attraverso l'esperienza indiretta che farà per il tramite di alcuni suoi ebrei protetti e pur tuttavia come dire coglie fin dall'inizio probabilmente il fatto che l'occupazione tedesca abbia delle caratteristiche non solo di particolare violenza se non efferratezza ma anche di novità sostanziale una parte della popolazione del luogo una parte della popolazione polacca quella contrassegnata da uno stigma razziale deve morire e Schindler inizia a confrontarsi con questa cosa il mio nome è Moshe Beyski sono nato in Polonia nel gennaio del 1921 e lì sono vissuto fino a 21 anni frequentavo una scuola polacca al mattino e una ebraica al poveriggio ho lasciato la casa della mia famiglia e sono rimasto a Cracovia fino al 1940 quando hanno costruito il ghetto nel 1942 ho perso tutta la mia famiglia sape i miei due fratelli nell'agosto del 1942 ho perso tutta la mia famiglia tranne i due fratelli ma mio padre mia madre mia sorella e tutti gli altri parenti sono stati deportati nel campo di sterminio di Bersecki mentre io e altri 1500 giovani ebrei siamo stati trasferiti vicino a Cracovia nel campo di Plasso il ghetto di Cracovia viene creato il 3 marzo del 1941 il ghetto è un primo passaggio nella politica di sterminio praticata dai nazisti nel ghetto queste persone sono costrette a lavorare in fabbiche sia interne che esterne gli ebrei di Schindler ovvero sia quei mille e più lavoratori che gli sono stati concessi dalle autorità naziste sono abitanti del ghetto escono per andare a lavorare nella sua fabbrica al mattino e vi rientrano scortati la sera Schindler nel mentre diventa anche un rispettabile personaggio del contesto del milieu nazista di Cracovia su questo il film il tracciato offerto c'era il film di Spielberg è direi sufficientemente veritiero è un bon vivant come dicono i francesi industrioso e non industriale procacciatore di affari a proprio beneficio stabilisce fin da subito dei buoni rapporti con coloro che comandano a Cracovia e sono prima di tutto le SS e stabilisce per l'appunto anche le relazioni profittevoli con questi nuovi padroni del territorio la scelta di usare gli ebrei come mano d'opera gli deriva inizialmente da un calcolo di ordine unicamente economico Schindler è abituato non soltanto alla banca rotta ma è abituato anche al mercato nero è abituato ai commerci clandestini o sotto banco è abituato a quelle che noi oggi chiameremmo le mazzette alla corruzione e così via sia pure su piccola scala avere la mano d'opera disponibile senza dover pagare più di tanto ovvero sia senza doverla pagare pagando un corrispettivo economico per ogni persona impegnata all'ufficio centrale dell'SS è per lui qualcosa di estremamente economico estremamente premiante dopodiché insomma questo riscontro si accompagna allo sviluppo delle vicende degli ebrei di Cacrovia e della Polonia in quanto tale nel maggio del 1942 nel mentre la DEF la fabbrica di Schindler è aperta e lavora per la produzione sia di pentolame che di munizioni soprattutto il primo più che il secondo per l'esercito tedesco nel maggio del 1942 dicevo inizia la liquidazione del ghetto di Cacrovia la politica tedesca la politica nazista in Polonia ha scelto di e non solo nei territori occupati dalla Germania ha scelto di eliminare fisicamente la razza ebraica così come vengono definiti gli europei di origine ebraica e procede proprio dalla Polonia perché le condizioni sono ottimai da questo punto di vista perché non ci sono osservatori esterni perché siamo in un paese dell'est dove l'opinione pubblica se non è di sentimenti antisemiti sempre e comunque è come dire diffidente nei confronti della comunità ebraica nazionale sceglie perché insomma le circostanze nel suo insieme lo permettono 6.000 dei 18.000 risiedenti coatti vengono mandati in un luogo che si chiama Belzec Belzec è un campo di sterminio non è un luogo di concentramento non è un luogo di sfruttamento ma è un luogo di eliminazione per il tramite del gas di coloro che vi arrivano scendono dal treno devono spogliarsi vengono introdotti in quelle che sono pudichiamente chiamate le docce e vengono assassinati col gas dopodiché i loro corpi vengono bruciati dopo la prima azione da questo punto va ricordato sempre che i nazisti agiscono con determinazione ma anche con particolare cura calcolando bene ogni loro passo il 27 ottobre del 42 c'è la seconda azione con 7.000 deportati e assassinati a Belzec e ad Auschwitz quello che resta del ghetto viene diviso in due piccole aree l'area A e la area B e il 13 marzo del 1943 si produce la liquidazione dell'area A 2.000 persone che vengono deportate a Platzov un campo di internamento e di concentramento minore il 14 marzo 1943 il giorno successivo si procede con la liquidazione dell'area B con 2.300 ebrei quelli residui deportati sia a Platzov che ad Auschwitz a questo punto lo scenario si è configurato e la vicenda di Schlinder la sua evoluzione verso quegli esiti che poi ci sono stati raccontati successivamente Schlinder assiste all'eliminazione del ghetto di Cracovia assiste alla deportazione dei suoi ebrei dei suoi uomini delle sue donne a Platzov l'eliminazione del ghetto è un evento omicidiale bestiale con fucilazioni violenze di ogni genere e tipo a questo punto Schlinder si interroga su cosa sta avvenendo la potenza e la forza di quest'uomo di quest'uomo altrimenti come dire se non certo misero comunque sia moralmente parlando comunque sia di certo mediano mediocre e a tratti anche banale la potenza di quest'uomo è interrogarsi sul senso delle cose che stanno avvenendo e il rifiutare il ricorso alla violenza alla distruzione degli uomini in un contesto dove la violenza e la distruzione degli uomini è prassi abituale può far forza su un elemento la fabbrica dichiarata struttura essenziale per lo sforzo bellico gli ebrei di Schlinder vengono trattenuti dalla deportazione egli interviene ripetutamente da questo punto di vista perché in realtà le autorità naziste poi non guardano tanto per il sottile sono dell'intenzione di eliminare anche le donne e gli uomini che sono sotto la protezione di Schlinder Schlinder ne fa una questione di principio Schlinder non può intervenire dentro il grande processo olocaustico Schindler non può intervenire dentro la Shoah ma Schindler inizia a realizzare qualcosa di fondamentale che può salvare almeno qualcuno che può salvare quegli uomini e quelle donne che stanno sotto la sua tutela e da ciò insomma ne derivano poi le successive vicende che non sono neanche molto rilevanti dal punto di vista come dire strettamente storico perché Schlinder si erige a protettore di queste persone e di fatto corrompendo molto spesso anche i suoi interlocutori dell'SS e così via riesce ad esercitare fino all'ultimo giorno di guerra questo ruolo di protezione fa spostare quando ormai l'esercito tedesco sta soccombendo sotto la spinta dell'armata rossa tra il 44 e il 45 i suoi tutelati nel territorio dei sudetti un sottocampo di lavoro dove apparentemente si svolge un'attività di produzione in realtà non si fa nulla semplicemente coloro che vi sono trattenuti sono protetti da qualsiasi violenza parte nazista e qui finisce come dire la vicenda in tempi bellici c'è la vicenda post bellica che è la vicenda del recupero della memoria di Schlinder e degli ebrei di Schlinder dopo la seconda guerra mondiale beh Schlinder prosegue nella china che aveva intrapreso già negli anni della gioventù si dedica in parte al mercato nero alla corruzione riceve alcuni aiuti da parte dei suoi oramai ex protetti e da qualche organizzazione ebraica nel 1948 emigra in Argentina in Argentina avvia altre attività commerciali e mercantile che puntualmente vanno in bancarotta nel 58 dieci anni dopo ritorna in Germania dove a modo di conoscere ulteriori insuccessi commerciali stabilendo la residenza a Francoforte sul meno Schindler non rivendica praticamente nuda del suo passato non si mette in piazza è una prerogativa di persone di questa natura è un fatto un aspetto che le caratterizza cerca ancora negli anni successivi di costruire una fabbrica di cemento finché nel 68 riceve una piccola pensione da parte del governo tedesco e a quel punto si ritira vita privata dopodiché pochi anni dopo nel 74 muore a 66 anni per complicazioni legate a una patologia cardiaca muore povero muore dopo aver divorziato da sua moglie muore dopo aver frequentato tante donne muore non abbandonato muore ricordato ma ricordato in una maniera diversa da come possiamo pensare noi ricordato a distanza da chi è sopravvissuto i funerali stessi sono pagati dalla municipalità esprime un desiderio proprio prima di morire di essere seppellito a Gerusalemme poiché dice i miei figli sono in qualche misura residenti lì e per figli intende ovviamente coloro che ha salvato questo suo desiderio viene poi riconosciuto perché già il 18 luglio del 67 la commissione dello Yad Vashem che è il memoriale dell'Olocausto che è un'istituzione pubblica presente in Israele riconosce a Shinder la qualifica di giusto tra le nazioni giusto tra le nazioni cosa vuol dire colui che non essendo ebreo in momenti di massima ingiustizia ha percorso la via invece dell'equità della giustizia salvando quegli ebrei che ha potuto proteggere dal destino di morte al quale erano assegnati dai nazisti e questo senz'altro agevola anche il fatto che successivamente la sua salma viene tumulata nel cimitero cattolico dei francescani sul monte Sion che è prospicente la porta di Sion della vecchia città di Gerusalemme la prima volta che ho visto Schindler c'era quando sono stato inserito nella sua lista ma il suo nome l'avevo già sentito a Platto nel 1943 sapevo solo che c'era questo tedesco che trattava gli ebrei diversamente dai suoi connazionali a quell'epoca c'erano già alcune centinaia di prigionieri di Platto che ogni giorno andavano a lavorare nella sua fabbrica sapevano tutti che i suoi operai almeno nel corso della giornata non rischiavano la vita nella sua fabbrica Schindler faceva preparare una minestra per gli ebrei e mangiare a pranzo e a cena voleva dire la sopravvivenza e la vicenda finirebbe qui con una piccola coda quella alle 24 giugno del 93 quando il titolo di giusto tra le nazioni viene steso anche la moglie e mille se non fosse per il fatto che per l'appunto c'è chi prima Kinali poi Spielberg recuperano questa storia e a quel punto Oscar Schindler diventa da persona personaggio personaggio di rilievo soprattutto per i posteri per coloro che sarebbero venuti dopo poiché lascia qualcosa che ha un significato soprattutto per le generazioni successive il 9 ottobre 1974 muore a Hildesheim Oscar Schindler Claudio Vercelli l'ha raccontato a Wikiradio a cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini a cura di Loredana Rotundo orde orde Grazie a tutti